In questo video vedremo cosa i nostri clienti dicono di noi Queste testimonianze le si può vedere in ogni istante direttamente sul sito di Interactive Brokers nella parte dedicata ai referral partner Andiamoci insieme Andiamo innanzitutto sul sito di Interactive Brokers che è www.interactivebrokers.com Andiamo nella voce in alto tra i vari menu a tendina sulla voce Trading e prendiamo la penultima voce della colonna di destra Investors Marketplace A questo punto prendiamo Search for Services Trader and Investor Ed infine Education e Coaches Come potete vedere siamo i primi per numero di voti dato che abbiamo sempre posto la nostra attenzione sull'investitore dandogli un servizio sempre migliore e professionale il risultato è questo Oltre 3000 clienti hanno scelto Assistenza Brokers la quale mette a disposizione tutta la sua forza grazie a numerosi servizi per esempio una sezione chiamata Corsi di Trading dove sono presenti al suo interno interi percorsi completi per conoscere nuove operatività adatte al vostro stile oppure per potenziare quanto avete già appreso se durante la visione dei corsi di trading avete delle domande andate pure a metterle nel nostro forum dal pulsante Community dove ogni giorno oltre 2500 iscritti attivi si confrontano con trader professionisti per andare a risolvere tutti i dubbi operativi e per migliorare il vostro approccio sugli strumenti finanziari inoltre ogni sera nella sezione Calendario Eventi potete iscrivervi a tutte le dirette che proponiamo con un solo clic in modo tale per essere sempre pronti a migliorare il vostro approccio sui mercati inoltre l'ultima sezione è il blog ogni voce presente all'interno del sito è registrata e posta all'interno del nostro blog in particolare nella sezione Alpha for All TV in più all'interno del blog dove sono presenti non solo come dicevo le registrazioni delle dirette ci sono anche delle strategie operative per vedere come i migliori trader su Interactive Brokers ragionano e studiare come loro si muovono all'interno del mercato inoltre siamo anche su Facebook rimanete sempre aggiornati sulle nostre attività con un mi piace alla nostra pagina infine abbiamo anche un canale YouTube dove tutti i nostri video sono caricati anche sul nostro canale iscrivetevi pure con un click per essere sempre aggiornati ed avere sempre sotto mano tutti i nostri video operativi tutto questo è stato creato con l'obiettivo di migliorarci e potenziare il vostro approccio sui mercati finanziari vi aspettiamo numerosi conosceteci e saremo lieti di accogliervi nella nostra community grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti